Salve a tutti ragazzi, quello che vedete nel video è un iPad Air 2 e questo è il suo unboxing, non perdiamo tempo e iniziamo subito Quindi ecco iPad Air 2 ancora in scatolato, come vedete la sua scatola se paragonata a quella di iPhone 6 risulta avere delle somiglianze Entrambe sono minimali, sui lati destra e sinistra della scatola di iPad Air 2 non è neanche presente il numero 2, c'è solo scritto iPad Air con il logo Apple Logo Apple che è stato rimosso dai lati inferiori e superiori, quindi i lati inferiori e superiori come vedete risultano essere perfettamente puliti Mentre sul davanti vi è raffigurato l'iPad visto di profilo, cosa che ricorda molto la confezione dei Macbook Ma detto questo non perdiamo tempo e leviamo subito la pellicola, quindi procediamo con l'unboxing del nostro iPad Air 2 Ecco una delle parti più divertenti, quella di rimuovere per bene tutta la plastica che ricopre la scatola del dispositivo Ecco l'ho rimossa completamente e ora possiamo finalmente alzare il coperchio Come tradizione Apple il dispositivo viene messo in primo piano, ancora avvolto nella sua pellicola Ma ora mettiamolo un attimo da parte, non concentriamoci su iPad Air 2, concentriamoci piuttosto su quello che troviamo d'altro all'interno della confezione All'interno della confezione troviamo questo manuale di istruzioni con scritto designed by Apple in California Che nel modello Wi-Fi più 3G che io non ho preso conterrà anche la graffetta per rimuovere il vano SIM Sotto di lui troviamo il cavo dati lightning to USB a 9 pin come ormai tradizione Apple E più in basso troviamo il caricabatterie da parete di iPad Quindi procediamo con la parte più emozionante, rimuovere la pellicola protettiva dal dispositivo Pellicola che è un pezzo unico quindi si rifà a iPhone 6 e iPhone 6 Plus, non è più a due pezzi È un grosso pezzo di pellicola che ricopre tutto il dispositivo a strati si può dire E una volta rimossa completamente la pellicola procediamo finalmente con l'accensione del dispositivo Dispositivo che ricordo la novità principale di questo iPad Air 2 è il lettore di impronte digitali Touch ID Come vedete lo sto accendendo, non metterò tagli al video proprio perché voglio che vi rendiate conto di quanto è veloce questo iPad ad accendersi Intanto ne approfitto per dirvi un pochino le caratteristiche tecniche Processore Apple A8X che è una versione migliorata del processore che troviamo su iPhone 6 e iPhone 6 Plus Videocamera decisamente migliorata, molto più sottile e Touch ID Queste sono in breve le novità più importanti che troviamo su questo iPad Ovviamente avremo modo di parlarne più a lungo nella recensione completa Comunque andiamo a selezionare il paese e la regione Ora mi collego alla mia rete Wi-Fi Durante questa configurazione potrei saltare qualche step per un discorso di privacy perché non posso logicamente farvi vedere le password Ad ogni modo abilitiamo iCloud Ecco che ci viene proposta la configurazione del Touch ID Novità principale di questo iPad ma che per adesso vado a saltare Salto anche l'aggiunta di un codice per il momento Mentre utilizziamo Siri Non inviamo i dati di diagnosi e uso Inizia a usare iPad Ecco quindi questo iPad Air 2 Unboxato e funzionante Spero che questo unboxing vi sia piaciuto Vi dico che io ero più propensa ad acquistare iPad Mini 3 Ma visto l'hardware decisamente scadente Ho preferito optare per l'iPad Air 2 Io ero un possessore di iPad 2 fino a ieri Quindi erano veramente molti anni che non aggiornavo il mio iPad E finalmente ho fatto questo salto di qualità Quindi ragazzi mi raccomando scrivete nei commenti quali video vorreste vedere in merito a questo iPad Air 2 Comunque in futuro seguirà la recensione completa Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che per me è molto importante Vi ricordo inoltre di condividerlo su internet per aiutarmi a crescere Seguitemi su Instagram, Facebook e Twitter Tutti i link ve li lascio giù in descrizione Soprattutto la cosa più importante di tutte Iscrivetevi al mio canale Un grande saluto Ciao a tutti Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al mio canale